Ciao, oggi vorrei parlare delle problematiche che riguardano gli adolescenti e soprattutto dei problemi che potrebbe avere un genitore nel far rispettare le regole a suo figlio, magari un adolescente di 15 anni, magari un ragazzo che passa tre giorni a settimana fuori casa, tre notti senza dormire nel suo letto e il genitore in questo caso potrebbe avere dei problemi nel far rispettare le sue regole al punto tale da essere pericolosa questa situazione per l'incolumità del figlio. In questo caso che cosa potrebbe essere utile fare? Allora, indipendentemente dal fatto che ovviamente ti suggerirei di contattare un professionista nel caso in cui magari tu sentissi che la situazione ha oltrepassato il limite, diciamo, però a parte questo le domande che da genitore, diciamo, mi farei potrebbero essere mettere dei paletti, mettere delle regole a mio figlio mi crea ansia, mi fa sentire a disagio in un certo modo, perché ricordiamoci che un genitore ansioso può manifestare questa ansia in entrambi i fronti, ovvero essendo super controllante, quindi super protettivo, super controllante, mettendo troppe regole, volendo sapere a qualsiasi ora della giornata dove si trova suo figlio, in questo senso, ma anche essendo super permissivo, quindi ritirandosi troppo presto, diciamo, dal ruolo del genitore. Non che si debba ritirare a un certo punto perché, cioè, dal momento che una persona diventa genitore, rimane genitore per tutta la vita, però se a 15 anni tu lasci che tuo figlio si comporti in un certo modo, è come se getti la spugna troppo presto, cioè è come se in un certo qual modo tu andassi in pensione prima del tempo. E ricordiamoci che se lasciamo che il figlio adolescente che magari ha 15 anni passi così tanto tempo fuori casa, praticamente è come se venisse cresciuto dai suoi colleghi, dai suoi coetanei e non più dal genitore. Quindi cerchiamo proprio di chiederci, fare il genitore mi crea ansia? Mi crea ansia? In che modo? Cioè, quali sono le cose che mi creano ansia? È proprio il mettere le regole, mettere dei confini ben delimitati e chiedersi questa insicurezza da dove arriva? Cioè, io a mia volta da genitore che rapporto avevo con mia madre o con mio padre? Era una connessione profonda? Cioè, mia mamma ha rivestito un ruolo in cui io la percepivo come presente nella mia vita, come una presenza stabile, come una persona con la quale se io avevo un problema, lei c'era, io mi sentivo al sicuro con lei, mi sentivo in un ambiente protetto, cioè la mia casa, la mia famiglia era un luogo sicuro per me dove se io avevo dei problemi fuori, all'esterno, comunque potevo rifugiarmi lì perché lì sapevo che c'era una figura che per me è rivestiva un ruolo, un punto di riferimento, una roccia per me. Quindi chiediti questa cosa, se tu a tua volta hai avuto, hai sperimentato una connessione profonda con tua madre o se invece magari è venuto a mancare qualcosa, perché ovviamente se tu non l'hai sperimentato in prima persona è difficile poi che ti venga naturale il fatto di metterlo in pratica con tuo figlio. A meno che tu non l'abbia imparato, se è venuto a mancare in quel caso, tu non l'abbia imparato diciamo in un altro senso, in un altro modo, con qualcun altro. E chiederti anche se c'è qualcosa che ti crea paura nel rapporto con tuo figlio. Per esempio, hai paura del conflitto? perché io in video precedenti ho parlato di come possono affrontare il conflitto le coppie, per esempio gli evitanti, i validanti o gli esplosivi, che dipende molto da come avveniva il conflitto nella famiglia d'origine della persona, del partner, della coppia, no? E qui è un po' allo stesso modo, ovvero come affronti il conflitto con tuo figlio? Innanzitutto, lo affronti? sei evitante? Hai paura? Perché hai paura? E anche di cercare di fare dei collegamenti, cioè questo da dove arriva? Per caso nella tua famiglia d'origine i conflitti non venivano affrontati, cioè quando ci si accorgeva che magari uno la pensava in un modo, l'altro la pensava nell'altro, semplicemente si evitava la questione, quindi questo magari ha contribuito nella tua vita a non farti affrontare i conflitti perché non ti senti a tuo agio quando capisci che la persona la pensa in maniera diversa da te, perché ovviamente se tu devi mettere delle regole a tuo figlio, in molti casi tuo figlio non sarà d'accordo con queste regole, non sarà una passeggiata, il fatto di... non è nemmeno una passeggiata, credo, mettere delle regole ai figli quando questi non sono d'accordo con quelle, perché cioè dobbiamo essere per farlo sicuri di noi stessi, perché se noi siamo insicuri è molto facile cadere nella trappola del preferisco ricevere diciamo le ricompense psicologiche che derivano dall'essere più un'amica per mia figlia invece che la mamma, perché se sono un'amica avrò tutte le ricompense che derivano dal fatto di avere un'amica, cose che invece non ho se sono un genitore, perché un genitore significa anche mettere delle regole che sicuramente non danno una gratificazione immediata a mio figlio, ma ci sarà una gratificazione a lungo termine ed è una cosa che devo dire soprattutto nel mondo attuale, molte persone non sono abituate proprio a ragionare in questo senso, nel senso che preferiscono la gratificazione immediata rispetto a capire che invece è la gratificazione quella a lungo termine che conta molto di più, soprattutto quando quella immediata non è nel tuo migliore interesse. E quindi chiederti se hai paura del conflitto con tuo figlio sicuramente è un'altra domanda fondamentale perché ricordiamoci che se sei super permissivo e non gli dai queste regole stai privando proprio tuo figlio troppo presto di qualcosa di cui lui ha davvero bisogno e non possiamo lasciare che le nostre insicurezze vadano a privarlo dell'importanza che riveste proprio la figura del genitore e non possiamo lasciare che venga cresciuto dai suoi colleghi perché in quel momento ha bisogno di una figura genitoriale e non di essere cresciuto dai suoi colleghi. Quindi quando per esempio magari ti capiterà anche di sentire frasi del tipo soprattutto quando un ragazzo è adolescente non mi serve un genitore oppure ma perché ho una mamma così? Diciamo che l'esempio che ho fatto io è anche molto come dire dolce no? Ma spesso soprattutto in adolescenza vengono dette cose davvero molto molto peggiori per tutta una serie di motivi. Però noi da genitori dovremmo chiederci cioè dovremmo capire che quando un adolescente dice non mi serve un genitore noi non dobbiamo interpretarla in modo letterale cioè non è non mi serve un genitore ma è semplicemente un modo per dire io adesso voglio fare quello che voglio voglio divertirmi ma cioè è la frase di una persona che ha 15 anni quindi non dobbiamo lasciare che le nostre insicurezze prendano il sopravvento perché magari se io la prendo in maniera letterale una frase così potrei rischiare di crederci al fatto che un ragazzo mi dice non serve un genitore e se mi faccio sopraffare da queste mie insicurezze praticamente dopo potrebbero sopraggiungere dei pensieri del tipo non sei una mamma che non sei abbastanza adeguata come madre e quindi lascia stare cioè ritirati perché tanto lui comunque o lei dice che non ha bisogno di un genitore ma non è assolutamente così cioè nel senso noi non dovremmo prenderla in maniera letterale ma è solo il modo che gli viene in quel momento a 15 anni come giusto che sia di dire che ha voglia di fare quello che para lui giustamente ma per tutta una serie di motivi quindi noi semplicemente non dovremmo farne un gran dramma diciamo di questa frase e prenderla per quello che è ovvero una frase che va contestualizzata e non lasciare che quella decreti l'adeguatezza diciamo della figura genitoriale che rappresenti tu in questo momento perché tu dovresti essere abbastanza forte da andare oltre questo tipo di frasi e non pensare tanto a voler essere perfetta per il figlio oppure piacere al suo figlio perché tu non devi pensare tanto a piacergli come farebbe per esempio un amico no ma devi pensare ad essere il genitore perché in quell'età lì soprattutto che è un'età difficilissima ha veramente bisogno del suo genitore e ne avrà bisogno per tutta la vita e quindi spero di averti dato degli spunti utili che magari ti aiutano a capire che è davvero troppo presto per gettare la spugna quando hanno quell'età e che nonostante tutti i difetti che magari potrai avere il tuo figlio non ha bisogno della perfezione ha semplicemente bisogno di un genitore e quello che ti ha richiesto è proprio questo non la perfezione non interessa a nessuno che tu sia un papà o una mamma perfetta interessa solo che ci sia la tua presenza perché quello farà davvero la differenza nella sua vita e farà la differenza in un modo che non puoi nemmeno immaginare perché più tu sei presente nella sua vita più presente ovviamente cerchiamo sempre di non finire nel versante iperprotettivo ma nemmeno nel versante super permissivo quindi se tu riesci ad essere a ricoprire questa presenza lui sarà sicuro di se stesso sarà sicuro e questo farà la differenza nel tipo di pensieri che avrà perché purtroppo quando noi non siamo sicuri di noi stessi certe cose non ci viene nemmeno in mente di pensarle non ci vengono proprio nemmeno in mente di formularle perché non ci crediamo abbastanza e quindi prendiamo delle scelte di vita che prende una persona insicura che sono totalmente diverse da quelle che prende una persona sicura che sa che prima o poi i suoi sogni li realizzerà e quindi non ha paura nemmeno di provarci a realizzarli no in questo senso fa la differenza che tu non getti la spugna ma continui a voler fare il genitore anche se non è una passeggiata di salute ma è tanto tanto dolore dolore profondo dolore molto molto profondo e quindi spero davvero che che tu ti faccia queste domande e non smetta mai di farle per qualsiasi cosa scrivimi nei commenti e se hai anche delle ispirazioni magari per i prossimi argomenti da affrontare non dimenticare di darmi questi suggerimenti iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima ciao